stavo andando a letto ve lo dico stavo andando a letto siamo a luna di notte notizia arrivata un'ora fa o sto anno veramente spero finisca perché veramente guarda notizie di poco tempo fa cristiano ronaldo nuovo giocatore dell'alnastro caro mio caro mio la fine della tua carriera te la sei scelta tu io non me lo sarei mai aspettato che tu accettarsi una offerta del genere anche se si parla di 500 milioni 500 milioni per i prossimi due anni e mezzo quindi ho detto per forza devo fare il video in questo momento non posso aspettare domani perché non avrei dormito giuro non avrei dormito non me lo sarei mai aspettato hai ceduto anche tu i soldi non mi sembra il caso di fare i moralisti si può capire quello che vuoi però ti sei piegato anche tu i soldi cosa te ne frega di andare in quei paesi del cazzo a giocarti a farti deridere perché tu praticamente c'è la gente andrà allo stadio per vedere ok cristiano ronaldo ma come si va a vedere le tigri al circo che cazzo te ne fregava andavi in un'altra squadra ti abbassavi un po lo stipendio andava a giocare ancora la champions league no questa veramente mi hai deluso mi sei sceso ragazzo mio mi sei veramente sceso si sarai sempre più ricco ma la fine della tua carriera non merita cioè tu proprio non la meritava in una fine del genere però te la sei scelta tu c'è non uno può dire quello che vuole raga però cioè tu hai sempre fai sempre veramente fatto qualsiasi cosa guardando sempre solo i soldi offerte rinunciabile quello che cazzo vuoi tu però l'al nasr no cioè l'al nasr no all'al nasr ma che cosa ci vai a fare tu all'al nasr all'al nasr cioè veramente ci hai tolto l'opportunità di vederti gli ultimi anni giocare in modo dignitoso per andare a giocare a biglie ok sarai sempre ricco tutti tu mi cioè nel senso se guardassi il mio video mi sfotteresti a vita perché dici auto sei un povero di merda ci sta io prendo 500 milioni di euro che cazzo mi frega ma ma tu per vent'anni sei stato dio sei stato sei stato un dio del calcio tu meritavi veramente la passerella l'ultima partita non lo so al bernabeo al campo nuovo a san siro e invece ancora per l'ennesima volta per l'ennesima volta raga il calcio è diventato soltanto questo perché 15 20 anni fa raga il più forte giocatore del mondo dei più forti giocatori di sempre che che se ne dica all'al nasr non ci sarebbe mai andato mai 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 tu sei sarai diventerà il lo sportivo più pagato di sempre va bene ma io cioè tu eri già a posto per le future tue generazioni per le prossime tue 30 40 50 future generazioni è scelto ancora i soldi ma perché ma perché c'è aiuto difeso fino all'ultimo ma questa qui non me la dovevi fare non ce la dovevi fare io parlo un po per tutti non ce la dovevi fare cioè tu all'al nasr no 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 proprio no mi dispiace è successo qua all'al nasr no questa veramente figlio mio è stata una caduta mi sei caduto resterai sempre il mio giocatore preferito per carità ma hai sbagliato veramente qua hai sbagliato veramente è facile dire poi hai sbagliato quando ci sono 500 milioni di euro dall'altra parte ma quello vuol dire oggi perché non so se si parla ancora di 30 dicembre di 31 dicembre però tu o il 30 di dicembre il 31 dicembre del 2022 hai detto definitivamente basta col calcio che conta e io veramente questo video lo chiamerò perché 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 non riesco ma la risposta la risposta sarebbe facile direte voi 500 milioni di euro 500 milioni di euro quella è la risposta ma cazzo ma giocati gli ultimi anni ma per divertirti ma basta con sti soldi hanno rovinato il calcio sti soldi basta ma basta ma cos'è cristiano ronaldo all'al nasr io non lo so ma perché andare a giocare non lo so secondo me ancora 10 milioni di euro all'anno li potevi anche valere ok che c'è il 5 di febbraio fai 38 ne fai 38 quindi figlio mio prima o poi un giorno la carta identità la guarderei pure tu ma a 10 milioni io veramente giuro raga giuro su questo ve lo giuro poi nel senso non mi ci trovo nella situazione ma se mi avessero offerto 500 milioni di euro per andare a giocare coi cammelli in mezzo al deserto e 10 milioni di euro per andare nella mia squadra del cuore tutta la vita io tutta la vita scelgo la mia squadra del cuore a 10 milioni di euro che non sono soldi brutti cioè vuol dire un attimo fare un attimo scendere un po di come si dice della tua della tua onnipotenza perché non siamo immortali ieri per il ha dimostrato non c'entra niente il discorso però nessuno è mortale gioca un po per la gloria e gioca un po per la gloria basta per sti soldi basta basta sti soldi hanno rovinato il mondo ci siamo visti i mondiali in catar dove non sanno nemmeno se il pallone è un oggetto rotondo sferico e adesso tu cioè come per dire allora l'anno prossimo messi prende va a giocare alla lì dove cazzo si chiama l'altra squadra l'alsad so che c'è l'alsad e l'alnas per il resto non so niente ma nella stessa squadra di ospino ho letto vabbè ho capito ho dovuto fare questo video per forza perché come ho visto lui con la foto così adesso la metterò anche come copertina c'è mi è venuto proprio un sussulto ho detto no è impossibile non ce la farei mai a dormire l'ultima notte dell'anno hai fatto questo scherzetto e ti dico la verità figlio mio mi sei veramente caduto resterai sempre il mio giocatore preferito ma mi sei caduto definitivamente perché ancora una volta ve lo ripeto lo ripeto non mi stanco non mi stanco ve lo ripeto hai scelto ancora i soldi non ce la faccio più cioè io mi chiedo tra dieci anni questo calcio qui dove finirà non c'è un giorno dove io non mi faccio questa domanda io che sono veramente un malato ossessionato dal calcio sono stato solo continuerò a essere malato di tema oggi un po meno davvero oggi un po meno queste sono le notizie che fanno veramente male al calcio perché veramente sì tu c'è dimostrano che tutto io già lo sapevo ma tutto si può comprare tutto a un prezzo anche la tua leggenda però questo qua rimarrà nei libri di storie cristiano ronaldo finisce il mondiale piange io t'avevo fatto una copertina bellissima mi ricordo nella tua ultima partita mondiale però ad oggi tornando indietro non te la rifarei perché te la sei meritata te la sei meritata di non fartela cioè non so adesso è un discorso un po stravagante cioè nel senso non mi sono un po impazzinato quello sì perché mi dà fastidio veramente mi dà proprio fastidio non ce la faccio ad accettare una cosa del genere niente secondo video in 3-4 ore però questo veramente non potevo saltare assolutamente io vi auguro una buona notte ti auguro una buona pensione d'oro va lì a svernare voi in compenso iscrivetevi al canale mettetevi piace quando vi vedete un bacio buona notte a tutti a domani